POOOOOOL! Comincio a diventarmi antipatico. Se poi penso a come si è comportato con te. Non posso. Non posso. La violenza genera violenza. Ogni volta che... C'è splendida frase, secondo me l'hanno inventata per... Paul, ti prego, non è il caso. Volevo solo dimostrarti che Michelle è incapace di attentare alla mia vita. In fondo sono geloso. Di me? No. Non di te. Dell'opinione che Ruth ha di te. Sono accaduti due incidenti. Casuali. E tuttavia Ruth è arrivata a pensare... Che tu volessi uccidermi. di me. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada